Architetti da tutto il mondo per partecipare a ricostruire la cattedrale di Notre Dame a Parigi, devastata dall'incendio. Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato un concorso internazionale per la ricostruzione della guglia. Il concorso internazionale permetterà di scegliere come ricostruire la guglia. Se ricostruire quella disegnata e realizzata da Violele Duke, nelle stesse condizioni e allo stesso modo, ha detto, o se, come spesso accade nell'evoluzione del patrimonio e delle cattedrali, sia necessario dare a Notre Dame una nuova guglia. Riguardo alla tempistica, poi, i cinque anni di cui ha parlato il presidente Emmanuel Macron, Philippe ha aggiunto Ovviamente è un obiettivo ambizioso, ma penso sia a salutare per lo Stato, l'autorità politica e il capo di Stato, fissare obiettivi ambiziosi. In ogni caso, il nostro compito, da ieri e da oggi, è garantire il raggiungimento di questo obiettivo.